buonasera a tutti ragazzi io sono salvatore e in questo video vorrei fare il pronostico della partita di udinese napoli questa partita si svolgerà domani alle 21 e napoli giocherà fuori casa come abbiamo detto in questa partita il rito di napoli una volta per sempre chiuderà tutti i conti perché il napoli ci basta solo un gol per per qualificarsi come campione d'italia che mi posso dire in questa partita il napoli farà una grandissima goleata per me il napoli vincerà per 4 a 0 e saranno gli autori dei gol saranno un gol lo farà kvarascheglia un altro due gol li farà osimen e un altro lo farà zanischi questi per me saranno gli autori dei gol poi un'altra cosa stasera gioca la lazio contro il sassuolo se la lazio o parigi aperte il napoli automaticamente già il campione d'italia in questa occasione per festeggiare ho comprato una bellissima un bellissimo spumante del napoli guardate e lo sta però lo sta però domani quando il napoli oppure io vedete che domani lo sta però perché il napoli vincerà e chiuderà tutti i conti vincerà solo quando il napoli è preso lo scelto adesso che vi posso dire aspetto con anzi questa bellissima partita se vi è piaciuto questo mio cronostico mettete un bel mi piace e iscrivetevi al canale mi raccomando ragazzi siamo sempre tifosi del napoli e sempre forza napoli ciao